E' vero, eh, c'ha ragione lui. La partita era ieri. Oggi c'è l'uscita a Mignotte. Non ti preoccupare, ce li porto io. Ragazzi, li porto tutti al centro e poi andiamo a figa, eh? Forza! Oh, tutti i froci, non viene nessuno. Oh, bravo peraltro. Bravi, eh, complimenti, mi lasciate solo con lo zingaro. Bamba, vieni pure te, dai, prendi il posto. Vedi mai niente, ti porto a conoscere Roma. Forza! Pronti? Pronti. Metti un po' di musica. Vedi, Bamba, questo a sinistra con i buchi, questo è il Colosseo. Adesso giriamo a destra, poi a sinistra, passiamo sotto l'arco di Costantino. Ah, che bello! E poi in fondo. Ecco qua, arrivati, passeggiata archeologica Terme di Caracalla. Qua si pizzica bene, eh? Eccola. Fate farla a me, la passa al finestrino. Signorina, permette? È libera. Potremmo farle compagnia? Ma lascia perdere, vedi quando è brutta? Signorina, scusi, eh, ma i miei amici dicono che non è abbastanza piacente. Ma, comparielli, secondo me l'è sbagliata, eh? Ma l'avete vista bene? È un tipo particolare. E poi c'ha la bocca bella. Secondo me è pure pratica. Rocco Veloce, fa la roba. Il giudice ha firmato, sei libero. Quanto costruisci? Non faccio più un soldo tranquillo. Non siete, ce l'hanno quattro mesi e vento dei giorni che non dormono. Cambia mestiere allora? No, perché non facciamo una cosa? Vieni tu a posto mio. Ma poi se l'accattano i letti costruiti in carcere. Fa nessuno comprare niente. Questi letti servono per il carcere. Anzi, il sindaco fa una cosa. Mettigli un segno, mi dico, in modo che quando ritorno non puoi sbagliare. Tanto tu che esci a fare? Hai una casa? No, allora stai meglio.